Dai raga, faccio a tutti, non so perchè mi hai incrociato da qua Sono troppo bello, ma qua da Da tutte le parti questa web Era caduta, manco me ne ero accorto raga Ecco qua ragazzi, così dovrebbe andare bene Ovviamente, Ranked Rotto Challenger ragazzi Rotto Challenger, eccola qui Il punto è un altro ragazzi Che loro hanno un Blitzcrank con i Revive E noi abbiamo Lucian con l'Exhaust Quindi un po' spettatore a blocco per vedere se sta registrando Ok, sta registrando, perfetto ragazzi Rotto Challenger 44 ragazzi Rotto Challenger, ahia Disfam 1 Flash Ho finito la chat ristretta ragazzi Sono a 46 punti, Diamond 5 Dobbiamo salire, dobbiamo arrivare in Diamond 3 ragazzi E con l'RNT RNT Faciola RNT Doctor Faciola, RNT Manus, RNT Canelupa, RNT The Game, RNT Quack Chica Stiamo partecipando al Qualifier 2 di LoL Italia Abbiamo già passato due turni E stasera giocheremo il terzo Il 25 luglio appunto Il terzo Poi, se vinciamo Tre partite andiamo alle semifinali E stiamo qualificati al Torno di LoL Italia Quindi incrociamo le dita E speriamo bene ragazzi Il Torno di LoL Italia Una vetta molto importante per noi Piccoli Vediamo un po' Moco Diana che riusciamo a fare Comunque io gioco nel team a D-Garry Sono D-Garry nel team Manus Support Faciola Top Chica Jungler E The Game Mid Ha preso Diana appunto Perché loro avevano Catarina però Non è proprio un personaggio Che sappia giocare bene bene però Diciamo me la capicchio Che però non è tutta sta difficoltà Diana Chi hanno loro giungla? E l'Aise ecco Devo solo cercare di non farmi gancare The Lise Diciamo Non so che ma se tu te lo No No 1 million Mi hanno affilato uno Però quello l'ho preso Io ho paura di stare qua Perché Lise potrebbe gancarmi Da un momento all'altro Quindi Catarina 9 farm Io ho qui 2 ancora da farmare Ora la prendo il 3 Quel cannone è nostro ragazzi Ah ma è iniziato tipo Di libro Non è proprio buono Iniziare di libro Perché Hai poco reful Tipo ancora contro Diana Diciamo Lei è intelligente Serviva Merda Voglia che danno Lui cerca di no Eeeh Blitz non flash Elized non flash Cata non flash XD Ah perché Catarina C'ha il TP Ora qua Good job Hanno flashato un po' De persone qua Ho fatto quello che potevo Ho fatto La force blood Ho preso io Ho preso la force blood Buono Mi faccio il primo item La blister La blister Perché contro Catarina Blitz sta trollando Perché c'ha revive Ma sa che sta qua Trollato Non si sa Ora inizio di la blister Perché Catarina AP fa veramente Tanti danni Mi sono Ma vabbè Sto parlando troppo Mi ha pure Ah Sto parlando troppo Mi ha pure Ah 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 Oh li abbia c- Oh li abbia c- Quali se ne aveva fatto un po' una cazzata eh? No Poi questi ci ho pensato pure ora ma... Ma che cazzo? Ah no! Elias AP E Katarina AP Quindi dai gank dovrei stare a posto Corri dopo tutto Senta raga che abbassano un attimo per vedere se la webcam si vede bene Un po' tutto oscuro però... Già sono unica di me poi è tutto oscuro Però sto a farmar poco Katarina... Ah pure Katarina sono tutte due Lei sta a 2-2-0 io 3-1-0 però E Elisina c'ha una kill Ok stavamo messi molto meglio noi Ok stavamo messi molto Ma che è? Stavamo messi molto Che amassi Ho? Ho! 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 Good job Elyze Fottuta Flim, 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 flim Regà vedete se incontro un team decente Ma manco flim Ah, cstfk, lol Cioè, io se incontro un team decente Io neanche flammo Mi farò del culo quando incontro un team che Sa non manco Come giocare I cannot turn back My eyes are open Ho amac黄ado per il oscilo, queste amacgliato Tocco esse Un amacicano aperto Odevo E minori Un amacliamo Ma Ha avery Ha da Eikat Niner Ha E vai, good job Ti avrò una sussietola, ho detto Dai, scappalo, scappalo Oh, come back, ragà, questi reggiano Questi reggiano tutti e sorrendano E dagli, va Comunque, ragà, vedete, cioè A me mi dispiace per loro, perché comunque se ci avessi avuto io Un JST FK, così mi avrebbe fatto ridere il culo Comunque, non è che Elisa sta a trollare qualcosa del genere, perché l'abbiamo Proprio zonata noi hard Io e l'isin Tia, Catarina, regalino Comunque, ragà, il fatto è che Quando uno ha FK, ovviamente è ridere il culo Infatti, JST lo riporto, però Come v'ho detto, se non ci so in abbio, non flammo Ma è che Cazzo Cazzo Vabbè, va Ho il Doran's Ring, io non muovendo Anzi Ne faccio pure un altro Cazzo, me prega Faccio questa, Magic Pan Ho la B, sal, cioè Non può fare Lei si sta a fare la gamba Qua ho sbagliato io, perché Lei ha flashato, però Vabbè, è worth it Uno per uno, lei ha pure flashato Io non ho stato né flasho né niente Potendo usare il niente, andrà via senza voli, però Buono Buono, buono, buono Buono, listen, buono Ah, ora sono ritornato me stesso, ragazzi Ora sì Canelugo is back G, ovviamente, riportato Mi vengo addosso lo stesso Cazzo, me prega 200, io l'ho levata Volendo, sapete che mi potrei fare Il Morello Infatti, me lo faccio No, ormai la Deathfire Non c'ho la B, non faccio il Morello Faccio un casino di danni Codown, un casino di danni Ma se no pure ha nascito No, ha nascito tutto, no Non voglio scioltare Mi sa Io riporto la Jace Ma Elize Non c'è Elize non è che sta a giocare male È che purtroppo Dobbiamo Zona da noi Io le sin Noto dalla Vossa Non fa Non Mesmo Son Stamos esas As Son 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 No Jace è tornato! Eccolo qua Guardate voi se vincono e noi facciamo una cazzata perché ridiamo che il game è troppo easy Non dobbiamo perdere il vantaggio Non so se ce l'ho dovuto free farm Ma di brutto Ma di brutto ce l'ho dovuto free farm Il morello non è proprio unito per andare a farsi dopo aver pensato fatti la pista Se pensate fatti una pista lo fate Rabbaton, Zonya o forse anche l'alice Bane ci starebbe bene dopo la pista Da certo non il morello eh Il morello te lo fai come il primo item con Diana Credo che non ti servirà a nulla poi Perché è un item estremamente deadly Ma questa è un po' perchè io sono fidato a merda Ma questa è un po' perchè io sono fidato a merda Ma che ha fatto Jace? Era Rabbino non promo questa No mi ha fatto vedere una cosa che Jace ha usato il flash per poi usarla con dietro ora mi faccio il rabotan prima le scarpe con l'homguard e poi rabotan nice eeeh perfect timing bro mazza veramente brava io non ci riuscirei a trollare così, o sto a fermo un basi o non ci riuscirei a trollare così minchia che pigna vabbè un easy game, cioè a me questi game neanche mi piacciono perchè non c'è neanche competizione io lo dico sempre nei miei game, ma questo che diamondeo ma state a vedere ca questo può essere diamond, si match così in diamond non che mi facciano schifo le easy win eh, per carità però cioè non che a me fa schifo prendere punti gratis però che paga lina, cioè ha giocato bene lì poi ha trollato un pochetto, io dal mio punto di vista le porto solo james eeeh ben cheap eeeh eeeh ufff 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 No Oh yeah Easy winner Ragazzi Mo se ne porta Jace Video molto corto Meglio per me Così carico Più 17 Che schifo Pochissimo Pochissimo Peccato Ieri avevo preso più 21 Allora portiamo Jace AFK Ragazzi Io spero che il video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto un bel like Se vi fa commentate Affaggia a tutti i ragazzi E se vi fa condividere Dei tagane lupo